A Pontedera, nella casa del Montevarchi, primo tempo senza dubbio complicato, ma vittoria meritata. Auteri ha optato per un'autentica rivoluzione, ben sei cambi rispetto al match di campionato con la Vispesaro. Due difensori puri come Iane e Seingrosso, Rizzo a metà campo, Pompetti non al meglio, Zita rientro dalla squalifica, Galano e soprattutto Rauti, novità sostanziale in attacco. Cancellotti è stato restituito al ruolo a lui più congeniale, quello di laterale di fascia. L'obiettivo? Dare più solidità, ma fare la differenza e sempre la distanza tra i reparti. Sotto questo profilo le risposte del primo tempo non sono state particolarmente saltanti. Il Pescara ha sofferto parecchio il ritmo e l'aggressività del Montevarchi, ha fatto fatica ad essere compatta. La palla tornava sempre nella metà campo biancazzurra. Forse in una partita del genere, al posto di Rauti, sarebbe servito da subito un giocatore come De Marchi, capace per caratteristiche rispetto al compagno, di tenere palla e di far salire la squadra. Attaccando come sempre con tanti giocatori, l'undici di Auteri ha lasciato campo alle sue spalle, esponendosi alle ficcanti verticalizzazioni dei toscani. Dal resto, sino al gol siglato su punizione da Memuscia, il 41esimo del primo tempo, zero occasioni e diversi rischi. Opportunità potenziali e reali concesse ai padroni di casa, fermati da due uscite provvidenziali di Di Gennaro e dal palo, prezioso alleato dell'estremo pescherese, sulla rasoiata di Amatucci, miglior giocatore dell'undici di Malotti. In un'altra circostanza, invece, Gambale non ha trovato di pochissimo la porta da ottima posizione. Ripresa, invece, di ben altro tenore. I ritmi si sono inevitabilmente abbassati, il Montevarchi si è allungato ed è venuta fuori la qualità nel palleggio dei Biancazzurri. Purtuttavia, Dursi ha cestinato il 2-0. È puntuale, purtroppo, è arrivata la disattenzione da cui è scaturito il momentaneo pareggio di Lischi, dimenticato da Anzita, su assist di Francesco Intinacelli, ventenne attaccante di Chieti, cresciuto nel River 65, di proprietà dell'Ascoli. Si tratta della quinta rete incassata in quattro incontri, fatta eccezione per le due partite di Coppa Italia. Il Pescara non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata. Bisognerà, sotto questo profilo, crescere e migliorare. Di molto positivo c'è tutto il resto, ovvero il primato solitario, che in questo momento conta relativamente. La media gol realizzativa, due partita. La capacità di reagire in modo rabbioso ma lucido, di non mollare mai, soprattutto di spuntarla nel finale. Gol di Frascatore, subentrato all'infortunato ingrosso. Era già accaduto contro Ancona, Matelica e Carrarese. Curiosità con lo stesso risultato, 2-1.